Lunedì 26 aprile riapriranno le attività della ristorazione anche nella nostra regione. Un primo traguardo fortemente voluto dagli esercenti e che fa il paio con una situazione dei contagi in Abruzzo che invita ad un moderato ottimismo. Per il presidente della regione Marco Marsilio l'auspicio è che la riapertura seppur solo all'aperto dei locali non comporti un nuovo aumento dei positivi. Una data importante, una nuova ripartenza anche se molto parziale perché possono aprire solo quelli che hanno gli spazi all'aperto e in questo momento il clima non è ancora così come dire clemente da poter permettere un pieno sfruttamento di questi spazi. Io spero che la tenuta del sistema e anche il progredire della campagna vaccinale possa contenere sempre di più il virus e accelerare anche il calendario che ci è stato proposto dal governo. Una riapertura parziale che probabilmente il presidente non era più rinviabile? Le condizioni socio-economiche sono note a tutti quindi la sofferenza delle categorie colpite dalle restrizioni è sempre più forte e giustificata. Bisogna anche tenere conto di questo aspetto quindi se non c'è la capacità o la forza o le risorse per poter tenere le persone ferme o a casa dandogli i soldi necessari per non mandare in fallimento le proprie famiglie e le proprie aziende è evidente che bisogna fare qualche ragionevole compromesso per poter far ripartire l'economia.